Ecco, quelle da Nino Lisi, vedete, sconsolato, ha perso il puma e è rimasto solo come un pezzo di verda. Vedete, vedete, guardate lo sconforto nei suoi occhi. Ema, spiega la situazione. Ema, ancora di nuovo il cellulare tra poco. Vedete, tra poco, guardate il passo dello sconsolato. Il nulla nello sguardo. Ormai è stato lasciato solo come un pezzo di merda. E avrà quante visualizzazioni? Due euro. Oh, e anche io gli dà. Guardate, vieni a pira, perché gli fa altre venti schede, però poi si rompia cazzo dentro. Se viene avanti, gli dira un puma. A fa' culo! Guardate come si muove attorno al puma. Guardate, guardate lì. Adesso non si vede mai dietro il puma con la scritta tra date e ospedale. Sì, sì, vediamo. Sembra come smarrito ora. Mi si vede proprio blu. Scompasso. Desaparecido. Una storia triste. Una storia triste. E se non parte il video. Ecco, vedete, adesso noi stavamo per partire, tutti i rapporti sono chiuse. Vabbè, ovvero. C'era davvero triste per Danilo Lisi, che è rimasto solo come un pezzo di merda. Eccolo, ecco, lì si avvicina. Sconsolato. Un uomo che cammina in mezzo a stazione dei pullman. Mentre noi ci allontaniamo. Povero Danilo. Soprase finale per chiudere il film. Una storia triste. Una storia triste.